Una cartica che io guardo a dove te scrivi Che te sogni e che te chiedo tanto Che sei arrato sto a mi corazon Ladiendo por ti, ladiendo por ti Bentornati a tutti, eccoci di nuovo qui Oddio, chi è? Non posso iniziare a che giuggiavano qua? Ok, sinceramente ho fatto un po' di Mini boss Mi mancava questo, volevo farlo Se si muove, dai Questo qua Proviamo a farlo In segreto Fortivo Silenziosamente devo uccidere Il nuovo testo di andare a caccia Il Dupal A decidere silenziosamente Cacchierola però Come faccio a decidere silenziosamente? Che cosa cazzo? Ok Uno forse disco farlo Si si viene Ok Ok E ci credono capitali? Beh Non ho una pena Riescono a decidere cosa c'è in personale Amore Allora Ehm Andiamo se riesco a uccidere anche questo sciallo sciallo ok ma bastare ci basterebbe ucciderne quattro ore di quelli quattro ok 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 mi sono troppi da ammazzare sinceramente ok poi quattiquatti non è tanto affatto oddio spero che lo viveda ok 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 per forza non so come mai quello mi stava vedendo sinceramente però vabbè mi stava vedendo la parola ok siamo a due ok ok dalla parte sbagliata dalla parte sbagliata mmm quattro quattro c'è lucecco lucecco e pensavo che ce l'avremmo fatto ma alla fine l'unico sangue che aveva addosso sarà il nostro ammazziamo lucecchino ecco lucecchino ecco ok non credo che me l'abbia contato non credo proprio ok aspettate prendo questo ok mmm mmm non credo che me l'abbia contato però vabbè questo però si questo però si dobbiamo andare da quelli lì ce n'è di più mi mancherebbe solo uno poi no 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 se questo di nuovo mi vedemi in cacchia bestia no non mi può vedere ok ok perfetto no attava mmm dove staranno eh c'è il cieco lì ok è arrivato ok andiamo a accedere andiamo andiamo ah andy eh si si porfa vabbè sono in tanti dai eh rischiamo il tutto per tutto eh ma no c'è lo scudo di merda dai non vedo un cacchio da qua ah non vedo un cacchio da qua ah non vedo un cacchio da qua eh uno due no veramente devo beccare il boss però vabbè prima che possa reagire oh eh che cacchio eh vabbè va bene va bene va bene che cacca crepi vabbè non riesco cioè perché vi becca chi non vuoi guardo vabbè 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 non va bene oh scendi 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 aia aia aspetta dai che è stato uccidermi mamma mia che nervoso ma questo qua qual è stato la lancia dio forse come la famiglia famiglia dai ma che stai aspettando uccidio uccidiamo uccidiamo muori 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 bella addio che bocca aperta scappate tutti i codardi bene 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 adesso andiamo a fare la missione velocemente andiamo a fare la mission ce la dobbiamo fare vai vai andiamo a che missione ci tocca ora l'oscuro momento era l'oscuro momento sai di cosa sono capaci questi mostri restare qui è una follia si ma le cose sono cambiate non capisci ora è dalla nostra parte perché mai dovrebbe aiutarci settimane fa era nostro nemico Talion pronto a combattere? è meglio che porti queste benghe agli altri gli orchi stanno costruendo un monumento a Saur abbiamo abbastanza polvere per distruggerlo bene ci penserò io a farlo non senza di noi pensavo che ti importasse solo di salvare tua moglie anch'io forza andiamo prima che cammine bene 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 perdona le parole di Erin ama la nostra gente segui Ergon ah sì automatic mi hanno rivelato il punto debole del monumento a Saur colpiremo lì dovremo rubare un carretto di Grog a Yuruk innescherà la polvere resta oh dio mi sa che questa è una missione abbastanza lunghina andiamo spero di farci ho un poco tempo non mi tocca dividerla eh però muoviti dai oddio 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 ah si sono ribellati a Yuruk lo svolta dell'altura è indomabile il carro è la davanti stai pronto non c'è Grog senza Yuruk gli Yuruk cesseranno tutti di respirare ma è la mia parola scombra l'aria che cazzo sta con vino ok allora ci verrà andato via un po' è uno va bene devo fare 9 quindi guarda ok si 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 ma sinceramente ora voglio fare tutto stelt quindi penso poco a interrogare cosa è meglio per torturare un ferro arrovinato o un martello bella domanda bella domanda dai ce ne è solo uno è uno di questi si ok seguiamo se non ci segue ottimo no cazzarola ok mamma mia mi piacevo prima di non liberarlo però vabbè ora assicuriamoci che i nostri uomini possano spingere il carro fino al monumento restando il mese eh no allora la missione è abbastanza lunga questa mh la corruzione del male è rapida lui non distruggere lo stato quello lì gondor non deve caderni preta o così non si vede la statua e dove? non mi ricordo più la come si fa l'attacco quello la eh non mi ricordo più la non mi ricordo come si fa l'accampamento degli uruk è qui ah ok così i miei potranno passare va bene va bene va bene va bene e lavorando faccio io faccio io faccio Damuo faccio Damuo e man nu faccio Damuo faccio Damuo Tu lascia stare Lascia che si ammazzo tra di loro No, 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 aspetta un attimo Ok, ora si Ok Dove sono? Vabbè, su Vabbè, sono al massimo, quindi Se l'ho capito Secondi che sblocca l'abilità Per asciugamento fortivo Andiamo Dai, mi si è bloccato qua Madò Andiamo, dai Ci metto in mezz'ora a provare a muoversi, addio Ok Ho fatto tutto io, andiamo, dai Eh, nessuno l'avrebbe mai detto Non allontanarti Oh no, 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 per carità Chi sei lontano Eh sì Siamo sicuri Siamo sicuri Calmatevi bestie Avrete viscere di Uruk in pregno I morti si lamentano sotto i nostri piedi Troppi, troppo easy sarebbe, troppo easy Sembra strano Ah, vabbè Eh, lo so che sta stupendo da... Ma se non si sa difendere Dio, sarò Ah Dovevo caricarmi quello per farlo, ok Gli uomini proteggeranno il cavo Ripuliamo il crinale per farli passare Ripulisci l'aria Eh, qua faccio pure l'aria È andare di qua Il prossimo avamposto sarà il più grande Oh, sto uscendo dall'aria Oh, oh Eh Eh È però se non lo manca Qualcosa non va Eh, qualcosa non va Sono tutti morti Qualcuno L'ho uccisi Eccoli di nuovo Non abbiamo capito Che devo difenderti di nuovo Ok Ok Eh, signor Eh, io ti avrei liberato però I nemici si avvicendano Ah, eccola lo stato Il monumento No, la vedo di... Molto lunga questa missione Ecco il monumento Ehm Tributo all'oscurità Costruito col sangue della mia gente L'oscuro monumento Sì Sì Mh, certo Voglio vedere come Dipende tutto dalla tua capacità Di sgombrare l'avattosto Solo allora I miei uomini avranno via libera Per distruggere 17 guardi Devo eliminare Gli Uruk sono sempre meno Ora che i loro comandanti Sono caduti per mano mia Cos'erano quelle urla orribili poco fa Eh, siamo a due Mi sa che è maese Vi saluto, raga Ma esce troppo Lugno Voglio vedere come succede Se un humano provata attaccare me Le guardie di quei maledetti schiavi Doveveono essere proprio incapaci Sì, stiamo mettendo tra, dovrà andare a tagliare la testa e basta. Sì, stiamo mettendo la testa. Non lo so perché sono sicuri loro, non lo so perché. No, non lo so, va bravo, va contento. Beh, lo stealth è servito a poco. Ma vabbè. Uomini, al cancello! Ma li devo aiutare. Sì, stai a... Ah, io. Importante che non beccano il carro. Che è successo? Oh, ok. Gli arcieri. Oh, effetto, dove stai? Come sono? Ah, devo spingere pure io. Ecco, quindi, ciao raga. Oh, dov'è? Questo non è nulla rispetto al dolore che già ci strazzi. Non è nulla rispetto al dolore che già ci strazzi. E' un po' più. Gli arcieri. Uno. prova la talberca, ok lui non si brucia per carità, taglio, come fa a bruciarsi? addio statua addio cancello, addio stato, addio tutto ce l'abbiamo fatta li hai condannati tutti la mia gente pensa di aver rivendicato la propria libertà è questo che gli hai detto volevano speranza gli ho dato ciò di cui avevano bisogno è del loro capo che hanno bisogno vabbè non di essere chillati e uccisi vabbè ecco qua tutti lo scuro monumento finito ci vediamo nel prossimo episodio con un'altra mission il capitano nero è disponibile beh, dovremmo fare quello alla prossima, bella a tutti, ciao ciao allora ciao 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 ciao